sono dei messaggi sì Chris noi non ci conosciamo ancora tanto bene scriveva che non parla così bene l'italiano ma capisce è una donna che ho conosciuto tramite Dada quindi è una donna che disegna su Dada e che è presente nella chat e la chat di Dada è abbastanza attiva e quindi ci si conosce sempre un po' diciamo chi fa qualcosa spesso un po' condivide non troppo, non si fanno proprio le le super shield però quando ci sono questi progetti che poi possono rientrare nell'ecosistema allora è molto interessante condividerli perché di fatto ci sono anche tante persone in Dada che anche scrivono un po' tutti a 360 gradi e poi il collegamento col visuale tante cose si rientrava come progetto di interesse anche un po' l'idea dei principi che ci sono alla base ecco non stiamo fondando una come si chiama big business tutto insomma senza criterio impostato alla maniera come si può dire classica non so come dirlo allora già anche solo la condivisione di alcuni valori secondo me è già un punto fondamentale ma Dada che cos'è io non lo so scusa io parlo sempre come se ormai lo conoscono tutti Dada è una piattaforma online e tante cose ma in primis è uno strumento online dove tu puoi entrare e scriverti e crei delle conversazioni di disegni con altre persone tu vai fai il tuo disegno con un basic con un'istrumentazione basic e poi le altre persone vedono e magari hanno voglia di rispondere o tu puoi andare a rispondere ad altri disegni e quindi hai delle strisce praticamente delle strisce no? e sono tutte delle conversazioni dietro a questo c'è tutto un progetto invece che si chiama economia invisibile che praticamente è un work in progress molto intenso e dettagliato e si cerca di trovare una struttura di come si potrebbe dire di divisione dei valori della ricchezza anche nel senso di quello che è un bene anche materiale ma che non si basi sugli standard classici ma che riesca a raccogliere tutti i contributi e tutti i valori che ogni persona mette liberamente si cerca proprio di uscire dagli schemi del business classico e le due fondatrici sono ne sanno ne sanno perché appunto B era una CEO molto importante eccetera per cui conosce molto bene questa parte e ha messo in discussione tutto per cui si sta ripartendo dal basso con altri valori e cercando di farlo diversamente insomma dando più chance a tutti dividendo meglio e cercando di soprattutto che le persone facciano quello che veramente sentono di fare non è più veramente cioè limitare al massimo tutto quello che potrebbe essere assumere qualcuno per fargli fare qualcosa diciamo ma piuttosto lasciare emergere perché c'è tanto che emerge naturalmente vabbè più o meno perché è tanto dada quindi io cerco di essere un po' sintetica non so se ho risposto ma dopo ti mettiamo ti metto ti scrivo un messaggio così bellissimo però sì mi hai manucchiato in quadrato una un'altra cosa sì sì e appunto adesso abbiamo fondato l'associazione quindi c'è una realtà giuridica che in Svizzera è molto semplice in verità fare le associazioni senza scopo di lucro non è un non è come in Italia che è un delirio e da lì però si possono fare tutta una serie di passi che sono quelli che poi servono da semplicemente aprire un conto che poi richiedere contributi per i progetti per insomma per tutto e in Svizzera non serve che una casa editrice abbia anche in Italia può essere gestita da un'associazione culturale mi pare però devi avere comunque una serie di diplomi di cose in Svizzera basta che sia negli scopi del tuo statuto e quindi è molto più aperta questa cosa e poi la casa editrice è una parte del progetto il progetto più se ne parla più diventa comunque ampio e si muove in diverse direzioni anche se insomma sempre Alicia Paola wow un'entrata triplice fantastico in quattro c'è anche l'in e beh l'in ciao ciao bello rivederti vieni qua a lunga non vi vedo ancora siamo fuori a fare una passeggiata però ci vieni qua lei lei ciao non ci vedono ciao ciao no non vi vediamo adesso sì ciao 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 Tina c'è un po' di ritardo però sì sì signore dell'editoria io potrò rimanere qua a vedere questo bello zoom pochissimo questa presentazione pochissimo per un appuntamento alle quattro a Ponte Teresa che non mi ricordavo comunque essendo una che ama il vostro il vostro progetto io come diceva Barbara vi porterò il mio libro da pubblicare e Tina farà appunto la correzione delle cose e io compro il libro fantastico ottimo le opere aumentano sì fantastico sì appunto stavamo un po' parlando dell'associazione che abbiamo fondato spiegando un po' per chi non è in Svizzera un po' come funziona e allora invece magari la parte cripto che è già più in in pista la può spiegare più Barbara perché è il suo sì allora spiegarlo io è inutile no no tranquilla cioè dalla parte allora dalla parte la parte cripto diciamo diciamo che è la parte digitale della casa editrice o del progetto in sé perché appunto come dicevamo non è proprio strettissimo come progetto può essere un po' più ampio considerato ma stiamo andando passo per passo quindi è molto organico come cresce è un po' difficile descriverlo in toto completamente quindi nella sulla blockchain quindi in digitale si sono aperte delle opportunità perché ci sono io sto seguendo da un po' di tempo una blockchain nuova che si chiama Nier che dà degli strumenti molto interessanti per essere indipendenti e per entrare nel nel digitale già diciamo con degli strumenti di potremmo dire pubblicazione e vendita pubblicazione e vendita ma anche di collaborazione per cui quando per dirla in breve perché non sono una grande teorica però per dirla in breve tu quando crei qualcosa in questo caso un testo un'immagine o qualsiasi cosa quando entra nella blockchain praticamente entra questo oggetto unito a un contratto un contratto che viene eseguito in automatico dal computer insomma e quindi in pratica è che tu quando crei queste decisioni poi non hai più la fase di non devi eseguirlo lo esegue il computer e questo libera molto spazio perché è come un lavoro in meno in pratica e tutto viene registrato in automatico sulla blockchain eccetera in questo caso però non stiamo lavorando con dei soldi veri cioè lo sono e non lo sono siamo un po' in una situazione di sperimentazione e per questo è così che l'abbiamo regolata anche all'interno del progetto da parte degli NFT è effettiva noi possiamo ad oggi prendere uno scritto e pubblicarlo online può essere acquistato scaricato letto e anche qualsiasi altro contenuto digitale e la valuta che si utilizza è una valuta che ha delle caratteristiche importanti che sono quelle di poter aumentare di valore nel tempo però può essere anche che subisce delle diminuzioni in altri casi per questo da un lato apre grandi prospettive e da un altro lato vorremmo tenerla un attimino come una nicchia per poter poi fare i conti alla fine tra virgolette abbiamo questo supporto di questo progetto un create base su questa piattaforma mint base per cui noi abbiamo ricevuto il regalo dei token cioè questa moneta che si chiama Nier e noi la useremo e avrà una sua contabilità che però tendiamo a considerare appunto e fare i conti solo a un certo punto perché altrimenti adesso sarebbe un po' difficile non è ancora regolamentata completamente quindi in questo senso ecco ci sono buone prospettive gli diamo questo spazio per ora e restiamo attive nel vedere quando è il caso invece di trasformare però non so se ho spiegato bene ma comunque diciamo che in questa parte essendo che non abbiamo bisogno di grandi fondi e in parte quei fondi che servono li abbiamo abbiamo già l'intenzione di lanciare dei prodotti dei concorsi per iniziare a creare anche l'attività e la comunità scusate penso che ho i ragazzi che stanno sbattendo le porte spero che non si sente qua si sente ma vabbè ah si sente no perché io lo sento tanto però finito ecco scusate fatemi pure delle domande perché non so mai quanto sia questo discorso chiaro io te la faccio subito cioè per criptoarte cosa si intende? praticamente è un è un cappello molto vasto che definisce qualsiasi oggetto che tu consideri arte e che tu sei andata online su una blockchain alcuni lo fanno anche da soli se sono dei programmatori artisti programmatori oppure attraverso una piattaforma e praticamente lo hai come si dice tokenizzato oppure mintato vuol dire che lo hai reso l'hai unito un contratto e quindi questa cosa è una cosa a sé stante che si esegue il nome che viene dato recentemente a questo insieme di cose è non fungible token che viene abbreviato in NFT è una anche qui le parole si usano ma cambiano per cui ecco quando approcciamo questo campo per questo ho messo un attimo le mani avanti ma solo per dire è in evoluzione ed è molto fluido e quindi io sto dando attenzione e serve abbastanza una costante attenzione perché le cose cambiano ci sono delle bellissime sorprese si risolvono dei problemi tecnici ho appena visto che è stato implementato un'opzione che noi già ci stavamo chiedendo se ci fosse o meno di poter nascondere dei contenuti e quindi di rivelare per esempio tu puoi mettere una pagina del libro per fare una pagina un capitolo o quello che è per avere un'idea alle persone ma puoi anche nascondere un'altra parte è una cosa che fino a qualche mese fa non era chiaro se era possibile fare e quindi diciamo che le novità sono molto veloci si lavora tanto anche a definire proprio questo passaggio tra criptovaluta e valuta standard perché dopo se lo chiede perché è chiaro che hai bisogno di un riscontro vendi qualcosa hai un guadagno e quindi poi bisogna definire piuttosto in fretta anche lì qual è il guadagno io prima parlavo di relegarlo a un certo tipo di sperimentazione perché c'è anche un gruppo sempre su Createbase che si occupa anche proprio di gestire queste cose per cui ci sono anche professionisti che sono più professionisti io non sono professionista in questo campo ma abbiamo il supporto anche di persone che hanno capacità legali insomma che sanno un po' meglio affrontare la situazione per cui ne possiamo discutere e anche lì a mesi sapremo meglio definire qualcosa così quando abbiamo definito il protocollo come si esegue poi possiamo farlo eseguire ecco molto più semplice tutto lì invece magari parliamo anche un attimo se avete domande mi fermo ma non è solo crypto quindi andrei comunque avanti che è tanto un lato ancora della parte di casa editrice fisica che è tutta da da creare invece e per questa per creare un'impresa abbiamo l'appoggio di questo progetto italiano si chiama Luna di questa associazione Scientilla e loro si occupano di aiutare le donne a sviluppare la loro idea di business però sempre stando nell'idea di quello che è il social business quindi non un lavoro di tipo sociale come potrebbe essere inteso male è proprio questa idea sviluppata da questo premio Nobel anche Yunus se l'avete già sentito ecco di di un'impresa che reinvesta in se stessa o comunque divida i quelli che sono i guadagni per continuare a migliorare la situazione di chi ci lavora ma non con uno scopo di portare un cambiamento positivo questo progetto anche è in evoluzione ci sono diverse donne che ne fanno parte è suddiviso in diversi gruppi chiamati class che si occupano delle diverse tematiche e propongono proprio di portare un sostegno in tutti i campi in quello che è il web marketing la contabilità la logistica dove è carente o dove la donna adesso facciamo un esempio in generale la donna che crea un business magari è a posto con la contabilità però non sa niente di web marketing e quindi può avere un sostegno una formazione o quello che serve organizzato da quest'altro gruppo e loro propongono una cosa molto bella a cui ci siamo proposti anche di sperimentare spero che a breve riusciremo a contrarci con tempi e tutto quanto che è un gioco di formazione proprio per arrivare a capire il proprio progetto come dove ha posto e dove ha bisogno di sostegno sia a livello interno quindi autoriferito che a livello esterno quindi comunque poi con clienti o e quindi uno dei dei motti diciamo di questo progetto è di lavorare comode quindi con una seconda dei suoi tempi e nel rispetto di tutto quello che una donna di solito porta avanti in più nella vita che siano altri lavori altri progetti figli famiglia quello che è quindi non è una cosa di tempi stretti di insomma bisogna che tutto confluisca e si sviluppi armoniosamente ci sono da capire delle cose perché da una parte c'è la casa editrice che può essere digitale quindi che poi si collega anche alla cripto e può essere più facile avere anche quello da iniziare però sarebbe comunque interessante avere una parte di casa editrice classica con dei libri stampati per il piacere di tenere i libri tra le mani e anche lì ci sono le opzioni on demand che dove si può stampare solo quello richiesto ma bisognerebbe comunque ad esempio evitare Amazon che non vorremmo finire in pasto a dei giganti senza cuore così però ci sono tante altre opzioni e ci sono delle cooperative invece magari che stampano e addirittura si potrebbe si è pensato a fare delle edizioni ridottissime invece che per dei libri ancora proprio come un oggetto speciale che sia attraverso la serigrafia o anche lì stiamo cercando io sto cercando un po' di contatti per capire in quale direzione si può andare per la serigrafia un po' di contatti ma ci sono anche chi proprio rilega ancora è chiaro poi cambia il costo cambia il progetto cambia non è più una cosa a grande distribuzione e quindi è siamo ancora in una fase proprio di ricerca di capire quali sono i modi migliori per realizzare quello che vogliamo realizzare e in mezzo a queste due cose c'è un po' il progetto narrando è venuta in mente questa cosa che a volte appunto sarebbe bello che un racconto ma poi anche si può partire da un'immagine possa essere dato e vedere cosa cosa un altro ne fa dove va il racconto anche il progetto di Barbara e cicatrice baci alla fine è un progetto collaborativo composto da più da più passaggi ma magari vuoi riprenderlo tu un attimo spiegarlo velocemente a Maristella non ci sentiamo ecco perché ero qua che vagavo con lo sguardo perché mi siete scomparse un'altra volta e quindi vagavo per appigliarmi comunque sì brevemente perché con cicatrice baci praticamente si definisce un po' esperienza piccola esperienza che crea ritratti di progetti di progetti scusate ritratti di processi di guarigione in pratica appunto magari ricomincio da capo perché mi sono resa conto che forse l'inserimento di cicatrice baci perché sono partita in quarta ma mi manca un appiglio nel senso che noi abbiamo deciso di partire con la casa editrice rendendo attuali e quindi producendo questi progetti che sono già in corso quindi cicatrice baci e appunto il libro di Francesca lo simoro sorridente che così saranno anche i test i root test per vedere un po' come tutto funziona e quindi per spiegare cicatrice baci era inizialmente un progetto più basato sull'immagine per cui io creo ritratti di processi di guarigione partendo da una storia verbale che mi viene scritta viene lasciato a parte tutto lo scritto e si trasforma in immagine queste immagini a un certo punto hanno cominciato a richiedere una nuova scrittura è come se poi a un certo punto mancasse una continuità è come se ci voleva una nuova storia e da lì è partita l'idea di creare un libro dove però la storia legata a queste immagini non sia più la storia originale ma una nuova storia e poi con questa realtà multimediale che abbiamo a disposizione ovviamente tutto si moltiplica in opzioni perché un'immagine può diventare un video poi può arrivare il suono può arrivare le parole e l'editing e il publishing in questo caso diventa quasi automaticamente multimediale al giorno d'oggi ecco ogni oggetto è bello a sé stante perché avere un libro che si può sfogliare è bellissimo ma potrebbe essere anche altrettanto bello ascoltare un audiolibro potrebbe essere altrettanto bello vedere tutti i contenuti multimediali generati da da quello che è un fulcro originale ecco in questo caso appunto forse l'esempio migliore in questo caso lo può dare il libro di Francesca che parte veramente dalla scrittura il mio parte è un po' al contrario però in realtà sì parte dalla scrittura che però viene diciamo bruciata cancellata trasformata quindi non c'è più non si sa c'era c'era ma io le distruggo se qualcuno ha tenuto qualcosa ce l'ha altrimenti capita questa cosa che secondo me è comunque una bella cosa alchemica che ci sta in un processo ma non sempre appunto è un fine appunto non è stata la fine della parola il fatto di avere eliminato l'origine perché adesso appunto queste immagini richiamano una nuova scrittura ecco penso che per ora questo è quanto e ti lascio tornare al discorso ok non riuscivo a riattivare il microfono ah ok anche a me mi si era bloccato tutto pensato sì una cosa che comunque accomuna finora il lavoro secondo me l'abbiamo messo nello statuto nelle finalità c'è comunque un senso forse terapeutico è troppo però c'è un questo tema della guarigione in qualche modo sia di testi o di immagini che portano a una trasformazione mettiamola così che non deve esserci per forza però nei nostri c'è che sia evidente per l'esterno come magari quello di Barbara che è più esplicito o che magari lo so io e chi mi conosce leggendo il mio libro o che poi comunque potrei spiegarlo meglio è da vedere questo è un tema che sentiamo che in qualche modo non so bene ancora come renderlo più esplicito ma che va tenuto presente e sicuramente nel modo di lavorare ancora c'è questo senso di di sorellanza che vogliamo a cui teniamo che deve essere un sostegno a tirare fuori i reciproci talenti questo progetto un sostegno a esprimersi a trasformarsi se è necessario ma comunque è un è un progetto collaborativo sia tra chi ci lavora dentro che a chi si rivolge è un sì c'è un po' questo elemento alchemico che è venuto fuori da sé non era tanto neanche programmato ma andando avanti nel pensare le cose questo è evidente e vabbè questo è più a livello della filosofia di fondo adesso i prossimi passi allora di sicuro volevamo lanciare due cose una un concorso per il logo dell'associazione della casa editrice e questo probabilmente andando nella direzione comunque del mondo cripto anche lì ci sono delle possibilità di comunque condividere le ecco già non te lo so spiegarlo tu Barbara di nuovo ma aspetta magari dopo sì se no dillo vai ah sì nel senso che quello che è molto pratico è che essendo che ogni cosa che si fa viene legata a un contratto noi possiamo aprire per esempio un concorso per un logo che sia in automatico già vincente se vogliamo nel senso che chi partecipa non deve perdere nulla e quindi nella noi abbiamo aperto questo cosiddetto store ossia un negozio su questa piattaforma e in automatico se che il il lavoro verrà reso pubblico e quindi tutto il lavoro sarà acquistabile e quindi ci saranno delle royalties cioè i guadagni vengono in automatico divisi per cui ci sarà la parte di aiuto per cosmia quindi una percentuale che va a creare un fondo e anche un fondo per creare anche il premio perché l'uomo che verrà scelto ma tutti gli altri saranno disponibili per essere acquistati e anche con un supporto per cui hai in cambio sempre un valore sembra strano dirlo così però questi oggetti che sono questi nft quindi in questo caso mettiamo per il logo sarà un'immagine hanno un mercato hanno un mercato e quindi sono subito pronti e adatti ad un guadagno diciamo e in più si aggiunge sempre questa qualità della criptovaluta che tende ad acquisire valore nel tempo dopo ci sono gli alti e bassi ricordiamolo però come tendenza abbiamo questo ecco non so se era precisamente questo ma a volte è difficile spiegarlo senza avere ecco magari bisognerà poi creare una piccola dimostrazione perché ho sempre un po' paura che siano parole astratte ecco però come base potete immaginarsi un acquisto online su un sito web ecco però è un po' di più che un semplice acquisto online su un sito web dopo c'è tutta una comunità un interesse dei modi per raccogliere fondi distribuirli far circolare insomma questi oggetti nft ecco approfondiremo pian piano e diventerò più brava a dirlo perché a seconda delle domande io ho sempre ascoltato in inglese quindi sono anche un po' impranata mi sa no ma possiamo dirti per capire se ho capito così eventualmente anche per dirlo a delle mie amiche che lavorano con la grafica cioè tu lanci un concorso magari non so ci sono 10 15 20 persone che partecipano e ti propongono un logo ok che entra come un oggetto dentro il tuo store giusto? questo è giusto oppure sì adesso provo sì mi senti tu? ok io sento sì ok no quindi entrano dentro il tuo store poi magari tu non so per Cosmian ne scegli uno e tutti gli altri rimangono in vendita è questo quello che ho capito io o no? sì stavo cercando anche un di vedere se riuscivo a condividere un esempio adesso io magari non so se ho ancora quello di Cosmio però dovrei averlo voilà vedo se si riesce a fare una condivisione di schermo posso fare un esempio però adesso prova non so se ho interrotto qualcosa se voglio se farlo vedere adesso fra due minuti forse giusto per dare un appiglio visivo dove non me lo becca non so per qualche strana ragione non mi becca quello giusto ma proviamo a vedere se faccio uno switch ok no eh voi abbiamo visto per un attimo qualcosa adesso vediamo nero almeno io vedo nero però prima si era visto ok perché è il sito su Cosmio ok su Cosmio non c'è ancora niente quindi devo tornare indietro un attimo perché non so come mai mi è andata però perché Cosmio è tutto nero ancora ok per quello è proprio nero nero è che eh sì è tutto nero solo che ah no tutto nero proprio sono un po' preoccupata sulla ah sì vedo sono tornata indietro a vedere no mi sa che non ho beccato quella sbagliata non è così evidente perché mi dà delle scelte ma non riesco a capire eh ah forse devo condividere prima questa e poi uscire da questa proviamo non mi dà quella che ho aperta non so per qualche ragione eh vediamo se funziona vedete qualcosa adesso vediamo il tuo schermo ah vedi il mio schermo ok non mi fa vedere proprio meglio profile proviamo da qua come qui eh bisogna prendersi un attimo la mano ma solo per fare un esempio perché perché qui eh tutto viene mh come dire eh è una nuova piattaforma ci sono delle novità spesso allora ogni tanto il sito magari viene sospeso per manutenzione poi riapre e ci sono cose nuove è solo che vedo che adesso fa veramente un po' tanto fatica a caricarsi quindi facciamo così vi preparo magari un video eh vi preparo un video da condividere o comunque a lasciare il link ecco vuoi vedere midface sì magari dopo cerchiamo il link diretto di Cosmia sì beh tanto però su Cosmia non c'è e non c'è ancora niente ok allora sì rimangono per essere acquistati in in criptovaluta quindi in NIR e poi una volta che sono acquistati entrano di solito a far parte della galleria di qualcun altro una cosa così funziona sì quindi poi rimangono comunque sono nelle gallerie di collezionisti esatto comincio a capire piano piano eh ci sono tante opzioni poi è vero che è difficile eh io mi sento un po' in difficoltà perché eh nonostante io sono qua da più di due anni ehm ci sono delle variazioni molto grosse tra un piattaforma l'altra ci sono tanti cambiamenti innovazioni quindi forse a questo punto per un discorso più specifico sulla piattaforma magari prenderei un attimo di di tempo perché è in via di definizione anche questo no e così quando abbiamo definito meglio ogni dettaglio è anche più facile eh descriverlo quindi adesso è giusto per capire che ci stiamo muovendo in questo territorio che è molto molto fluttuante comunque sta prendendo la sua strada sì poi un'altra cosa appunto che vogliamo proporre è un'altra pubblicazione di un'antologia di racconti e adesso magari dobbiamo pensare se vogliamo mettere un tema o o no anche no probabilmente però ovviamente racconti scritti da donne e questo è anche un progetto per la casa editrice e anche poi sarebbe fantastico che ogni racconto magari non per forza che partecipi a Narrandom ma che comunque abbia un'immagine che possa essere poi collegata al progetto crypto l'immagine ovviamente può essere fatta da qualcun altro non è che deve essere la scrittrice che fa l'immagine perché può essere odato però ecco un'altra cosa che secondo me potrebbe essere un buon un buon progetto per iniziare ecco altre domande altre cose di rispetto devo fare un attimo mente locale alcuni attenti sì anche dopo una nota sulla questione delle associazioni di donne magari se intanto dico solo due parole che in pratica in questo periodo sono entrata in diversi gruppi che si sono creati spontaneamente nella criptoarte di donne che si sostengono e di fatto emerge che c'è ancora necessità di questo e quindi non solo non solo una voglia che per quello è bellissimo ma anche un po' una necessità di vivere l'aspetto del mercato e del marketing in un modo che c'è più consono come donne ecco una necessità di parlare diversamente di certi argomenti e magari di trovare anche soluzioni diverse non si sa però ecco da quel punto di vista confermo che c'è molto interesse proprio da parte anche delle donne di essere in un gruppo che si riconosce e così e quindi si nota che si creano anche delle situazioni e un modo di collaborare diverso e questo è anche tutto da scoprire e trovo anche una cosa interessante è come un'avventura in questo senso sì anche che questo progetto rimanga comunque aperto non so se avete letto nello statuto abbiamo incluso un organo che abbiamo chiamato laboratorio dove che si ritrovi una volta per stagione almeno e dove anche chi non è parte proprio del comitato ma che non è per forza così formale come un'assemblea comunque dove si possa discutere e si possa portare nuove idee si possa portare ispirazione cose che si ha voglia di fare che ci sia uno scambio di desideri e di sogni anche abbiamo a me piace molto il modo di progettare di questo del dragon dreaming non so se avete già sentito che questo metodo è ispirato agli aborigeni australiani ma che divide il lavorare un progetto in quattro parti principalmente e la prima è il sogno bisogna sognare il progetto poi pianificarlo poi attuarlo e per ultimo celebrarlo anche quella parte della celebrazione è fondamentale e poi nelle quattro parti sono incluse diverse cose però appunto lavorare in questo quest'ottica che è anche solo quelli che sono le nostre visioni possano essere portate poi magari non vengono realizzate esattamente come le avevamo viste ma condividendole qualcosa si smuove qualcosa si fa e soprattutto così la comunicazione rimane fluida e non ci si rinchiude troppo nel quello che possono essere le per esempio adesso per noi è stato importante fondare l'associazione basandosi su questa visione che avevamo io e Barbara che era diventata piuttosto chiara e volevamo partire da lì ma allo stesso tempo per me è importante che questa nostra visione non sia un limite sia la base su cui partire da cui partire ma che poi gli input esterni possano sempre arrivare e ecco vieni a salutare sì voglio farti vedere una persona questo è il mio figlio più grande guardate quanto è grande ciao ciao piacere ripetimi il tuo nome perché me l'ha scritto ma non me li ricordo sono tutti sono Ares ciao Ares piacere io sono Maristella sono siciliana so che verrà in Sicilia va bene era solo questo volevo solo metterti in imbarazzo grazie ciao ecco dovevo fartelo vedere Stella sì dragondreaming.org sì penso che è questo Barbara ecco appunto mi piace questo questo approccio da tanto tempo che lo conosco e non ho mai avuto l'occasione di metterlo veramente in pratica questo è dragondreaming fino a un certo punto sì l'ho sempre tenuto presente ma adesso mi piace che sia condiviso che sia tenuto presente da tutti tutti perché bene perché io conoscevo l'ikigai ma non questo e adesso me lo studio questo questo è un po' più c'è queste due parti che di solito non si prendono in considerazione il sogno e il celebrare sono importanti questo questo poi poi cos'altro cosa abbiamo da da dire portare ancora sto facendo una ricerca nel fondazioni che sostengono le donne la letteratura e l'arte per trovare comunque appunto poi i fondi ce ne sono tante svizzera bisogna solo coprimettersi e creare uno scritto che adesso non vi vedo più io ma che bello non c'è più nessuno vabbè pian piano comunque si arriverà anche a quello non abbiamo escluso il crowdfunding non scherzo se non è immediato sì da un lato c'è una fase diciamo che abbiamo queste fasi un po' parallele che praticamente mentre creiamo i contenuti ricerchiamo anche dei fondi quindi alla fine è come è una costruzione un po' in parallelo e poi c'è anche questa cosa abbastanza importante che ogni persona che arriva porta le sue competenze le sue qualità i suoi sogni la sua energia e siamo rimasti anche aperti a vedere cosa risuona e chi risuona con questo progetto questo a volte c'è anche ecco non da non dimenticare che sì c'è l'esposizione ma poi anche c'è un un sentito e magari può essere visto questa associazione come un contenitore dove si può attivare magari qualcosa che si aveva già in mente no? che possa essere nella scrittura ma anche nei progetti collaborativi tra donne la creatività appunto come dicevamo questa cosiddetta guarigione o chiamiamola anche trasformazione cose difficili da definire quasi quasi con delle parole e basta vorresti discuterne o passare un'emozione no? quindi ecco la rete la rete che si crea è anche un po' quello che definisce perché non siamo una struttura piramidale appunto e quindi ogni persona che si avvicina darà aiuterà a dare la forma non so se l'ho spesso correttamente ma ecco è una conversazione continua e è una definizione continua ci sono dei principi è chiaro ecco magari quelli vengono da da conoscersi da come agiamo e da prendersi il tempo insomma di respirare il tempo insieme di fare qualcosa assieme e poi penso anche io alle cose da dire pratiche però adesso mi sentivo di dire questo se volete dire qualcosa a voi possiamo fare un giro di parola se avete voglia di dire qualcosa qualsiasi cosa mi sia venuto in mente volentieri sì anche volentieri una piccola piccola presentazione a me sarebbe utile per per capire no se se c'è qualcosa che vi ha portato qui se è una curiosità se è qualcosa che volete proporre se può essere anche curiosità ma appunto se c'è qualcosa che noi possa esserci d'aiuto anche a a capire cosa rispondervi cosa portarvi che altri contenuti approfondire prego mi presento io allora vabbè io sono stata invitata ad affacci che ho conosciuto in Svizzera all'Ugano ho fatto il biannoli di scienze della comunicazione però poi mi sono trasferita a Bologna e ho continuato col cinema e quindi mi sono laureata lì in cinema lavorando su una tesi sull'adattamento cinematografico della ricerca sui vari adattamenti e poi ho proseguito anche lì con un dottorato in italianistica che metteva a tema la sceneggiatura cinematografica come testo di confine quindi tra cinema e letteratura lavorando su tre scrittori italiani che sono stati anche però sceneggiatori quindi Flaiano Ugo Pirro e Festa Campanile poi durante il percorso dottorale sono stata anche a New York ho fatto un corso di sceneggiatura e di scrittura creativa e comunque a parte nel senso poi la letteratura oltre al cinema è proprio una delle mie grandi passioni che mi ha anche comunato avvicinato Francesca con cui veramente abbiamo vissuto delle cose secondo me bellissime tremende nello stesso momento ci separano dei gap temporali proprio anche grossi ci siamo riviste dopo tempo ora ci rivediamo ci risentiamo dopo tempo però a me piace questa cosa magari ci sono state delle frequenze che poi si incontrano non so allora vabbè io un po' nel frattempo penso che arrivino dei messaggi perché sento come allora io ho pubblicato ho lavorato un po' per delle riviste ho pubblicato due libri di poesia uno di racconti un romanzo così comunque sempre realtà editoriali indipendenti infatti questo comunque è difficile perché poi diventi non solo l'autore ma anche il promotore del libro ed è una parte che io invece non sono capace di fare cioè non ce la faccio proprio questo per me è difficilissimo mentre lavorare sul testo è quello che più mi appartiene lavorare fuori dal testo poi quando cioè nel vabbè io nel 2000 ho viaggiato un po' poi mi sono trasferita a Roma poi mi sono ritrasferita a Catania e ho girato un corto lì su una storia per bimbi una fiaba che ho ambientato nelle grotte laviche della nostra scogliera che sono le grotte di Visse e questo corto con mia sorpresa perché io in realtà c'è anche recitato in dialetto siciliano quindi così ha fatto un bel giro cioè è stato selezionato in diversi paesi quindi dall'India all'America al Brasile e questo mi ha incoraggiata nel senso che poi alla fine mi ha fatto piacere perché scrivere una cosa che magari appunto tu pensi sia molto legata alla tua terra però poi parla anche a persone che vivono da tutt'altra parte con un'altra cultura eccetera secondo me è un'esperienza stupenda adesso mi trovo a Roma ho vissuto anche un paio di anni in Firenze con il mio nuovo compagno ma ci siamo trasferiti qui proprio a ridosso della pandemia perché mi ha preso un lavoro qua io sono più una freelance quindi ho questi momenti in cui io scelgo in momenti molto impegnati in momenti invece di stasi e diciamo che questo periodo pandemico non solo mi ero ritrasferita cioè qui a Roma in cui comunque non avevo più un passato una storia e poi da Firenze dove comunque lavoravo in realtà qui ancora mi devo un po' ricollocare quindi questo tutto quello che avete detto mi è piaciuto moltissimo questa idea di sorellanza di trasformazione di guarigione secondo me è stupenda anche completamente sovversiva per i tempi in cui secondo me noi viviamo quindi cioè da un lato proprio mi impenerisce da un lato quasi mi fa anche paura però una di quelle paure sane nel senso che comunque è bello che ci sia il coraggio di mettere di concretizzare un'azione del genere quindi intanto vi ringrazio perché secondo me è proprio una direzione un'infezione stupenda grazie grazie è molto interessante infatti bello comunque io ci sono passata dalla questione corto e cinema e non è non è facile ma abbiamo abbiamo già diverse idee in serbo anche per questo se ti può interessare quindi non magari sono cose che ci vuole proprio un po' il suo tempo però ormai quando parti di multimediale è come se adesso ormai è tutto connesso dobbiamo fare delle suddivisioni quando discutiamo anche per questo a volte è difficile fare una presentazione ma bisogna creare delle discussioni quasi quasi diverse tematiche che però in realtà stiamo parlando di qualcosa di molto organico e che comunque trovo che emerge emerge anche sempre di più e se si ha voglia di essere di buttarsi e di fare il portavoci e di sperimentarlo questa organicità che è la struttura al di sotto di tutti gli schemi ma si potrebbe dire anche al contrario qui vabbè è un casino parlare a volte entriamo nel filosofico esatto i caffè filosofici li farei volentieri ma dopo lì anche io mi perdo però però sono bellissimi perché ti accorgi di quanto più descrivi e più ti accorgi che è proprio il valore dello storytelling della narrativa e di si stesso le cose le puoi dire in tanti modi diversi ed è un'arte e sono tutte verità e io sono ammaliata da questa cosa trovo che sia bellissimo va bene scusate se non mi perdo mi concentro ciao non so se Chris hai voglia di presentarti anche in spagnolo se vuoi buongiorno buongiorno me escuchano si bueno acá in mexico si io vivo in mexico sono todavía sono le 9 di la mattina è è molto temprano todavía sono diseñadora grafica pintora e sto scrivendo e déjenme mostrarles un po' a lo che iba a decirles a estoy escribiendo una novela sto scrivendo un romanzo sui demoni interiori e la liberazione dell'anima con un po' di umorismo nero e poi è è già bellissima questa descrizione la tematica è molto interessante si si un romanzo sui demoni interiori e la liberazione dell'anima con un po' di umorismo nero empecé a scribirlo hace unos 4 anni 5 e aun estoy en el proceso de scribirlo e si puedo ayudarles un poco con el diseño del logo per diseñar el logo por participar no nada más necesitaría información ya la busco en cosmia .org e no ancora cosmia .org non è ancora attivo tra un po' ok per ora c'è il collegamento su sent beta beta sent e appunto abbiamo adesso comunque aperto un gruppo telegram per rimanere in contatto e scambiarci le informazioni per chi vuole collaborare non per il pubblico ok grazie si così l'ho messi adesso scusa vai vai ho messo questi link nella conversazione per chi è interessato a collaborare appunto ho messo la mail dove ci si può comunque annunciare così noi riceviamo le vostre mail e poi quando abbiamo delle comunicazioni importanti le ricevete c'è il gruppo telegram per chi vuole essere partecipe così appunto nella creazione quindi non appunto come diceva Francesca non per il pubblico ma più per esserci per le nostre condivisioni e poi c'è il blog send che così è un po' assieme al sito un luogo dove verranno resi dove verrà messo anche un po' di scrittura verranno date un po' di news eccetera eccetera e noi stiamo condividendo comunque tanto il work in progress anche perché per la parte della cripto è molto importante e quello che ci sta dando dei fondi per incominciare nella cripto è praticamente la condivisione dei nostri passi come work in progress e di eventuali ragionamenti che possono essere d'aiuto anche ad altri gruppi che fondano cose simili come ad esempio chi lo sta facendo per la musica e questi gruppi hanno diverse interazioni attualmente così e poi insomma tutte le news arrivano man mano e magari voi siete tra le co-creatrici non so questo poi sarà a scelta e come dicevamo con Francesca non c'è un impegno da prendere ma deve esserci solo una volontà e un sentito cioè noi lavoriamo comode non c'è stress e ognuno dà il contributo che ritiene e si ascoltano le esigenze insomma e si e si decide assieme se c'è altro da aggiungere prego abbiamo una nuova arrivata vedo qua Stefania è scappata oh è una scomparsa è scappata non si sa no pensavo che magari aveva qualcosa da dire vedremo sì forse te l'avevo invitata eccoci sì sto pensando in particolare se c'è ancora qualcosa a questo punto c'è un appunto da parte di diverse persone che che volevano essere presenti ma che non avevano ecco proprio tempo oggi va bene ascolteranno la registrazione ma c'è anche una una parte di persone che richiedono la presenza fisica e quindi per chi è vicino probabilmente ci sarà da organizzare anche qualche caffè sì lo dico perché magari qualcuno di qualcuno di voi non so chi è più vicino ci sarà anche questa opportunità ecco è al momento non so che siamo un po' distanti verrei sia a Roma che a Messico ma volentieri non parlare della Sicilia al momento è un po' complicato però ripetiamo che questo questo questa associazione vuole essere anche internazionale quindi quando c'è l'occasione non la disdegneremo anzi se poi quando le cose evolvono si creano dei gruppi locali in altre località l'associazione può aprire altre sedi anche all'estero e nello statuto e c'è anche una possibilità da non so quando può avere un'utilità si può pensare anche questo sia un'utilità l'atto penso che più o meno per un incontro introduttivo abbiamo detto tutto all'oggi ma probabilmente no avremo ancora potremmo cominciare a parlare a divagare su diversi temi ma se non avete ancora qualche domanda precisa o qualcosa sull'antologia di racconti volete fare un concorso anche per il logo non per forza non è detto che debba essere una cosa no concorso potrebbe essere come lo faresti un'antologia di primo occhito così senza no non lo so nel senso che dipende se la casa editrice vuole rappresentarsi al pubblico con questa antologia di racconti che da un lato io nel senso in termini secondo me di diffusione può avere un senso no perché se tu comunque inclui 10-15 persone inizia a girare anche il nome della realtà della casa editrice però appunto bisognerebbe scegliere non so magari tu dicevi un tema comune forse no però se è il libro con cui esordisce con cui nasce la casa editrice forse avrebbe senso legarlo ad una io faccio delle domande sì 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 grazie cioè avrebbe senso legarlo invece a quello che è la filosofia con cui nasce la casa editrice oppure a un tema non so caro alla casa editrice a un elemento qual è il segno zodiacale della casa editrice non lo so una cosa così invece se esce per esempio il tuo libro l'incronità secondo me è fortissima ed è anche chiarissima quindi a quel punto il libro di racconti potrebbe avere anche tutt'altra direzione questa era l'unica cosa che mi sento sì bisogna rifletterci un momento io pensandoci così tra me e me da una parte mi dicevo un po' quello che dicevi tu di dare comunque un tema che non fosse troppo ristretto ma che ovviamente richiamasse quello che per noi è importante non ho individuato quale però mi dicevo che sarebbe una cosa comunque per trasmettere i valori di Cosmi anche senza stringerlo troppo appunto no proprio un concorso non l'avevo immaginato come un concorso più come una chiamata anche magari anche su invito piuttosto che anche se appunto è un'idea comunque nuova e possiamo anche anche tu se hai delle delle idee si ne può parlare vedere che venga fuori che si definisca questa questa cosa sì perché a volte noi usiamo un termine così chiamata concorso eccetera perché altro non c'è però nell'idea di creare questa partecipazione e di ripensare un po' le modalità poi ci vuole quella calma di definire ogni dettaglio cercando di fare qualcosa come dire che sentiamo veramente come dici tu è bello chiaro vengono anche delle domande però lì c'è anche quel momento di cambiamento e di staccarsi dal eh normalmente si fa così no e allora vorrei solo dire che magari potrebbe sembrare strano che non abbiamo delle risposte precise e di fatto ci sono anche dei pensieri delle discussioni dietro a questo fermarsi un attimo prima di fare in automatico la solita cosa ecco per cui aspetti anche un po' l'ispirazione e senti volentieri anche qualche altra idea affinché si possa creare qualcosa che sia bella come esperienza no un po' dall'inizio alla fine anche col concorso c'è il rischio che l'idea del concorso e c'è qualcuno che vince gli altri non vincono insomma è è tutto un po' da da riflettere come come cosa però sì eh aprire a a delle nuove voci si potrebbe quasi definire un po' un'apertura e anche da parte nostra non è completamente attiva c'è anche una fase di ascolto ecco e quindi e poi c'è anche questa trasformazione che avviene anche nella creazione stessa di Cosme no un pochettino perché già adesso ci dicevamo beh lo statuto è una cosa l'abbiamo fatto però abbiamo quell'altro tumo da preparare che si chiama il manifesto che lì è un è un è una cosa in cui proprio entri entri in processi si può dire in processi interiori e quindi ecco e questo è aperto cioè aperto appunto apriamo al fatto che se non si vuole fare un copia e incolla ci vuole un po' di impegno ma che sia bello divertente e che lo sentiamo ecco lasciamoci questa occasione sì 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 che questo progetto comunque sia comodo divertente un'avventura e godiamoci l'intento quello sì Stefania che cercava di entrare prima dice che appena cercava di interagire la buttava fuori perciò sì so chi è ma non è riuscita a rimanere scusate che le scrivo solo un attimo che la perdoniamo un attimo Sì, per me io sono abbastanza, per ora, sì, mi sembra che per ora è un sufficiente materiale, anche quello c'è da dire. E poi sentiremo, continueremo, abbiamo bisogno un attimo di feedback, giusto, perché ci sono un po' di persone che attendono comunque di sentire un po', vedere, insomma, sentire questa registrazione e che comunque daranno un feedback e quindi lasceremo un attimo questo tempo, no? Quindi ci faremo risentire e avrete le nostre notizie tramite i canali che abbiamo, che abbiamo lasciato, la mail, il blog, per chi vuole essere più attiva il gruppo Telegram, ecco, perché lì poi si può portare avanti anche una discussione magari più costante su queste tematiche e se non c'è altro, sì, lascerei alla prossima presentazione, insomma, ecco. Sì? Per me va bene, voi avete ancora qualcosa da chiedere? Sì, se no vi aggiorniamo, vai Maristella ci sentiamo dopo, calma, va bene così per oggi? Ok, grazie a voi che siete riusciti a stare, grazie a voi, nonostante i problemi tecnologici che a noi non hanno toccato, ma... Non so perché, forse era come dicevi tu, che se accedi attraverso l'app, se accedi attraverso il browser, invece fosse un po' più solido, non lo so. Non lo so, faremo dei test per vedere se questa è la soluzione funzionale. Vedremo. Va bene. Io farò dei test a essere l'unica a usare internet, magari vi vedo di più. Per tu ancora? Perché io ho fatto un po' la conversazione con... Ogni tanto vi ho viste, però la maggior parte delle volte ha un pallino con una letterina, che va bene, è carino, è viola, però è un po' meno... è un po' più difficile. Infatti io sono terribile per mantenere il filo del discorso, ho molta più facilità, se vi vedo, devo dire la verità, quando a me arrivano i pallini, per me diventa un momento di... ho perso. Non perché non ci siete, non vi sento, però è proprio... vabbè, mi replica un po' meglio una situazione normale e mi rende un po' più sciolta, e invece quando sparite... ho quel... mi incespico molto più facilmente, dico la verità. Un altro dei miei figli è lì a casa con il suo, che è quello che gioca alla Playstation e occupa tutta la linea... Non ho avuto la prontezza, la prossima volta li spedisco nel bosco, al parco, nel momento giusto, e oggi non ho avuto la prontezza. Va bene, vi ringrazio. Sì, anch'io vi ringrazio, vi auguro una buona serata, a presto allora. A presto. Ciao. A presto, ciao, grazie. Ciao. Appendo. Ciao. Piacere, Chris. Ciao.